Signori e signori, buonasera, ladies and gentlemen, a very good evening, mesdames, servici e bussar, meine Damen und Herren, guten Abend, signoras e signores, muy buenas noches. Signori e signori, accogliamo con questo fortissimo applauso il nostro comandante Pietro Sinisi. A guardate il nostro comandante, buonasera, buonasera, buon Natale. A nome di Costa Crociere, di tutto il mio compagio, vi ringrazio per averci scelto. Per esserci stati vicini in questi anni che sono stati per noi veramente difficili e spero che questa crociere sarà da voi ricordata come un'esperienza unica di 20 Caprica. Vi ringrazio per averci scelto, spero di rincontrarvi tante altre volte sulle navi con la cimina la gialla e la ciblu e poi rientro a casa. Grazie. Grazie a tutti. 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 Sono venuti qui a salutarvi l'Ufficiale del Stato Maggiore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.